Quest'anno partecipano scuole provenienti da tutta Italia, con oltre 150 ragazzi. A Napoli si sta svolgendo la ventesima sessione nazionale del Model European Parliament. Team building, delegazioni, commissioni e redazioni di risoluzioni che sono state dibattute oggi in assemblea plenaria. Tutto l'occorrente, insomma, per creare una simulazione del Parlamento europeo, allo scopo di sviluppare un sentimento di appartenenza all'Unione europea ed una partecipazione più consapevole alla sua costruzione, oltre che a far conoscere ed apprezzare il pluralismo culturale del nostro continente. Straordinario che ci sono ragazzi che vengono da molte regioni d'Italia. A Napoli, luogo di assemblee di popolo, di diritti, di accoglienza. Napoli che vuole essere una città globalizzata, soprattutto per i diritti e per le persone. È bello che si parli di Europa, di diritti. Io ho voluto porre l'accento su quello che è accaduto nel Mar Mediterraneo, la tragedia di Lampedusa di alcune settimane fa. È bellissimo vedere ragazzi che approfondiscono tematiche così attuali e che proprio Napoli diventa il luogo in cui incontrarsi, in cui discutere, in cui confrontarsi con un'apertura mentale tipica di questa città.